Schena Assicurazioni Generali Garibaldi Fenomeno degli infortuni sul lavoro, monitoraggio, prevenzione e iniziative e ancora incidenti stradali dipendenti dalla guida in stato di ebrezza e dalla mancata attenzione al volante. Questi i temi degli incontri tenuti oggi al Palazzo della Prefettura di Sondrio a partire dalle ore 10.30 nell'ambito della riunione annuale della conferenza permanente della sezione dello sviluppo economico e attività produttive e della sezione area territorio ambiente e infrastrutture. Presenti all'incontro, oltre al prefetto Giuseppe Mario Scalia, i massimi gradi delle forze dell'ordine, i rappresentanti sindacali delle tre principali sigle, la dirigenza INAIL di Sondrio, i rappresentanti dei settori agricolo, industriale e artigianale del terziario e dell'ANMIL, associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. I infortuni sono fortunatamente in calo e questo è un dato positivo però crediamo che bisogna comunque sempre farete stare sempre con le orecchie molto attenti perché l'infortunio può sempre accadere. Scarso rispetto delle regole da parte di alcune imprese e mancanza di zelo di pochi operai. Queste le cause di un numero di infortuni sul lavoro comunque in calo che ha visto recedere da 7 a 2 la cifra dei decessi nell'ambito lavorativo fra gli anni 2015 e 2016. Presente a Sondrio dal 25 gennaio scorso, lo sportello finalizzato alla tutela di salute e sicurezza del lavoratore, due nodi cruciali all'approssimarsi delle celebrazioni di un primo maggio oramai alle porte. Il primo maggio è la festa dei lavoratori, noi invitiamo tutti i lavoratori a partecipare alle varie iniziative che ci sono in programma. A Colda ci sarà la messa alle ore 10 dove si verranno ricordati anche i morti purtroppo sul lavoro e poi ci sarà una tavola rotonda con i segretari generali di CGLC Islewil e il presidente dell'ANMIL.